Lui è nerogno, è un gatto adulto, è un coccolone, è veramente un coccolone, è affettosissimo. L'unico suo difetto è che ha bisogno di uno spazio esterno perché in gabbia logicamente si sente recluso e quindi inizia a miagolare, a avere proprio quasi delle crisi. Invece qua fortunatamente si riesce anche a essere un po' più calmo, non avendo queste crisi. Però ha sicuramente bisogno di un'adozione perché tutto questo affetto, tutti questi coccoli, è vero? È sterilizzato, non ha né fiv né felve, è un gatto sano e merita una casuccia tutta per sé.